Una certa periodizzazione è scottata, immaginare qualcosa di più articolato all'interno sarebbe possibile, ma dovremmo prendere ogni volta un singolo territorio e vedere questa periodizzazione all'interno. Personalmente ce l'ho abbastanza chiaro per Milano, però non sono sicuro che la stessa cosa valga per Bologna, per la sua amata Ferrara o per Venezia. Sono momenti anche abbastanza complessi. Teniamo conto che poi ciascuno di questi territori rifà una sua stessa storia, per esempio adesso l'ho citato Venezia. Venezia è industria cinematografica, Venezia è luogo di rifugio degli attori, segue una sua logica abbastanza diversa rispetto a Milano, certo poi dopo la grande ondata la sommerge anche queste piccole differenze, però bisognerebbe vedere per ciascun territorio ciò che caratterizza quale vita stanno vivendo gli abitanti.